Basta le lunghe code per prenotare visite specialistiche, esami di laboratorio, diagnostica strumentale e basta code alle farmacie ospedaliere per l'ottenimento di farmaci, farmaci considerati di somministrazione diretta. La rivoluzione si chiama DPC, distribuzione per conto e Pharmacup, due innovazioni che la regione Abruzzo mette in campo grazie alla legge 405 del 2001 con il supporto di Assofarm e Federpharma. Dal 2017 i servizi citati saranno di competenza di tutte le farmacie territoriali che in Abruzzo sono ben 496. Immaginiamoci questi cittadini che le tante famiglie, le comunità delle zone interne o di altri territori che debbono recarsi in ospedale, pagare il parcheggio, fare la fila al CUP e ovviamente spostarsi e pagare il costo dello spostamento. Ecco tutto questo è risolto tranne ovviamente per alcuni farmaci che prevedono alcuni prelievi del sangue perché ci sono alcuni che devi necessariamente prendere in ospedale per tanti motivi. Ecco al netto di questi oggi finalmente avremo i farmaci a disposizione nelle farmacie territoriali e sono ben 500 punti di erogazione.